Amo, oggi dobbiamo dare al Cesare quel che è di Cesare. Siamo dallo chef Mavilla e lo possiamo dire ufficialmente che fa la norma più buona di Catania e provincia? Ragazzi, alla terrazza dello chef, salvo Mavilla, fa la norma con questa ricotta salata, ma non c'è ragazzi. Ma la salsa, il pomodoro fresco. Ora l'assaggio. C'è qualcosa di spettacolo. Ragazzi, è la norma più buona di Catania e provincia. Buonissimo. Dovete venire qua da salvo. Ma abbondante. Ma non solo ragazzi, tra poco vi facciamo vedere anche un secondo, veramente che rimarrete scioccati, perché è una cosa semplice, ma da non sottovalutare. Ma tra poco, non fa tempo conto che si finisce chissà. Ora voi direte, vabbè, una cotoletta, cosa c'è di strano? Questa è una cotoletta di carne che io intanto assaggio. Mamma mia che tene, oh. Gustosissima nella pastura. Ma la facciamo la prova del nove? Ma io faccio la prova del nove. Guardate ragazzi, la carne. Ragazzi, quella cotoletta di carne. Di carne, eh? Non è pollo. Non è solamente tonno che si spezza, che si taglia con un grissino, si spezza, c'è una cotoletta di carne di un sapore spettacolare. Ma io devo assaggiare anche quella di pollo. Questa è di pollo. Guardate come si... Andando allo spessore, lo spessore di questa cotoletta le possono fare... Allora, possiamo dire ufficialmente una cosa? Viva lo chef Mavilla. No, Mavilla non c'è più nulla. Mavilla è un numero uno di Catania e Provincia. Dei paesi ettenei. Dei paesi ettenei, ragazzi. Un numero uno. Non c'è. E' un numero uno spessata con le mani e questa cotoletta di pollo è spessa, che se non sono fare quattro. Esatto. Chef Mavilla, sei un grande. Numero uno. Lo saluto. Salutiamo lo chef. Magari che non c'è, un io è un chef. O voi lo trovate qui, alla terrazza dello chef a San Pietro Clarenza. Sì, cercava, ma è più famoso di noi, quindi non c'è bisogno. Ma noi siamo famosi? Sì, vabbè, siamo popolari, siamo nominati, magari lui è nominato. Ma lui è più famoso di tanti altri tiktoker famosi. Certo. Buon pranzo, comunque.